amici malati di spezia sconfitta numero 12 dello spezia in questo campionato 2 a 0 in casa della capolista parma una buona notizia c'è da questa giornata ed è sicuramente quella che quantomeno per una settimana non ci sordiremo i soliti sproloqui di tanti troppi giornalisti che per una settimana per l'appunto continuavano a propinare in continuo che lo spezia grazie alla classifica avulsa per la prima volta in campionato sarebbe salva torniamo pienamente in zona rossa zona rossa nella quale lo spezia è stato ed è attualmente per 32 volte su 33 partite partiamo subito da un presupposto la sconfitta di oggi a parma in casa della capolista parma non deve essere assolutamente una tragedia perché nel calcio determinati valori ci sono e i tanti punti di differenza tra le due squadre non possono essere assolutamente un caso poi è vero sì che nel calcio sicuramente tutto può ribaltarsi può essere opinabile e a volte davide contro colia può spuntare la squadra più debole ma ci devono essere determinati presupposti ed attualmente lo spezia seppur sia migliorato dalla gestione d'angelo determinati presupposti non li ha ed è proprio per questo che oggi non mi aspettavo assolutamente un risultato diverso non per pessimismo ma per assoluto realismo e per conoscenza di quella che è la situazione in casa spezia non siamo la terrana che va a vincere al 96esimo a cremona così tanto per chiarire non siamo quel tipo di squadra siamo una squadra che purtroppo a partita subisce in media 1 2 gol a partita oggi lo spezia subisce due gol uno per un errore di posizionamento di squadra mani nei capelli quei pochi che ho per vedere la gestione in almeno due calci d'angolo delle marcature sia che siano esse a zona uomo miste quelle che sono ma effettivamente la difesa sulle marcature effettivamente lascia ed ha lasciato a desiderare un almeno un paio di occasioni poi ci si aggiunge il solito errore individuale oggi lo fa Zut nelle scorse due partite contro l'ascoli contro lecco gli errori erano stati in entrambi i casi di Matteo poco cambia lo spezia incassa due gol e arriva torna ad essere la quarta peggior difesa del campionato con il peggior attacco in coabitazione con il lecco questi sono numeri sono numeri inopinabili e quindi sui numeri poco ci si può ragionare sono d'altro canto appunto numeri e come tali sono assolutamente inconfutabili non a caso lo spezia attualmente sarebbe ad un play out che comunque continua ad essere assolutamente non scontato non scontato perché come dicevamo prima la Ternana che con tanti infortuni Sgarbi e Iannarilli che per la serie B soprattutto Iannarilli è assolutamente un ottimo portiere nonostante questi infortuni riesce a vincere contro la Cremonesa 96esimo Ternana che è sicuramente una squadra abituata a lottare per la salvezza non a caso io in un precedente video dicevo che la speranza per lo spezia può essere Bari e può essere il Cosenza queste sono io credo le squadre che attualmente si possono giocare con lo spezia la salvezza ora voglio condividere con voi un documento che state vedendo per l'appunto in questo documento un documento un comunicato della lega serie B che va a riassumere gli emolumenti di tutte le squadre come potete vedere lo spezia monte in gaggi di 19 milioni erotti di emolumenti per quanto riguarda la rosa che nella sesta formazione per monte in gaggi peggior attacco in coapitazione con il Lecco e quarta peggiore difesa del campionato tirate voi le conclusioni e non mi si venga a dire la solita litania che abbiamo fatto anche l'anno scorso e cioè quella fantastica del sì le cose stanno così ormai questi siamo e questi dobbiamo sostenere giusto 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 bene mi sta può stare bene perché effettivamente se no come quel marito che per fare dispetto alla moglie si taglia non diciamo che cosa mi sta bene però sono anche stufo ogni anno di giocare a questo giochino e cioè che bisogna supportare giustamente perché questi siamo sì però se poi vengono prese determinati determinate decisioni per quello che riguarda la squadra per quello che riguarda appunto il monte in gaggi così alto per quello che riguardano 5 milioni di commissioni date appunto agli agenti nel calcio mercato e poi questi sono i risultati a me come tifoso può anche stare bene sostenere la squadra e sarà sempre così però lasciatemi anche dire a contempo che la gestione dell'area tecnica è assolutamente fallimentare una gestione tecnica che definire in maniera negativa sarebbe un eufemismo questo va detto per onor di cronaca e questo questa pagina personalmente continuerà a dire perché va bene sostenere però neanche con la scusa del poi no non essere tifosi come qualche giornalista poi va ventilando non è neanche giusto poi mettere la testa sotto la sabbia tornando alla partita lo spezia fa quello che può fa quello che può partita assolutamente in equilibrio parma che ha avuto ed ha sicuramente valori ben più alti dello spezia parma che ha praticamente due formazioni titolari due giocatori forti per ogni ruolo noi in tanti ruoli non abbiamo neanche un vero e proprio titolare e questo è il modo per costruire campionati all'altezza detto questo per l'appunto lo spezia avrebbe fatto anche la sua partita grandissima occasione con kuda che complice la condizione fisica assolutamente da ritrovare perde brillantezza davanti a ciccizzola ma se non tiri lì davanti arrivato dentro l'area davanti al portiere caro kuda quando tiri prova a scattare il portiere meno 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 estetica e più concretezza a costo di dare una bella puntata in controtempo davanti a ciccizzola perché se lì si va 1 a 0 allora sì che quella può diventare un'altra partita mi ha ricordato per tanti versi lo sciomuro a firenze in quella partita assolutamente disgraziata che tutti noi ricordiamo poi come dicevamo prima partita in equilibrio valori sicuramente migliori per il parma parma che poi come dicevamo sfrutta un errore di squadra in un errore individuale e con sostanzialmente il minimo sforzo riesce ad ottenere il massimo risultato risultato che per il parma probabilmente al 95 per cento con il risultato di oggi parma che sarà proiettato in serie a anche perché le prime due si sono assolutamente staccate dalla terza che poi disputerà i playoff e in coda ripeto situazione drammatica per lo spezia a cominciare dalla partita contro la stampa con falcinelli che era diffidato e che quindi contro la stampa non ci sarà ma contro la stampa occorrerà mettere il 250 per cento anche tutto quello che non si ha per provare a prendere i tre punti perché se la quota salvezza come si parla sarà di 41 42 punti sono cinque le partite mancanti e sono 15 i punti ancora in palio farne sei o sette significa così in soldoni facendo il conto della serva fare all'incirca il 50 per cento di punti disponibili nelle prossime cinque partite e quindi non si potrà che pensare ad un paio almeno di vittorie per cercare di arrivare alla salvezza o al play out e sarà tutto 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 da vedere davanti il solito inconsistente attacco che sia falcinelli da solo che sia poi nel secondo tempo moro più esposito verde candelari chi più ne ha più ne metta il ministro che inizia con il 352 passa poi al 4312 poi mette anche candelari con per cercare appunto la superiorità sulle fasce candelari che comunque è un giocatore abile a saltare l'uomo per cercare di mettere in mezzo dei palloni ma lo spezza sostanzialmente non si rende più pericoloso se non con le solite trame assolutamente confuse di gioco quindi salvezza che purtroppo per valori tecnici quei tanto vituperati valori tecnici che pare avere lo spezza ma che poi nel concreto non si vedono spezza che per conquistare la servezza dovrà mettere tutto 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 sul piano dell'agonismo e della tenacia e del coraggio perché se non si ci sono questi tre fattori considerato la pochezza di alcuni reparti della difficoltà di fare gol se non ci sono questi tre fattori lo spezza a un piede e mezzo in serie c quindi pochi discorsi dalla prossima partita contro la stamp partita che sarà da affrontare come quella con l'ascoli sicuramente con più coraggio e con più voglia di vincere i duelli di vincere le seconde palle rispetto a quella possiamo dirla vergogna delusione usiamo delusione per essere magnanimi quella contro vista contro il lecco lecco che tra l'altro oggi torna alla vittoria nuovamente contro la reggiana e quindi niente penso di avere detto tutto lasciami il tuo commento qui sotto per farti sapere la tua opinione lascia un mi piace se ti hai presunto il video e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale obiettivo 700 iscritti noi ci vediamo per la prossima partita contro la samp che oggi ha perso contro il sul tirol che verrà quindi al picco dopo una serie di risultati utili e positivi samp quindi sembrerebbe un pochino ridimensionata e toccherà a noi con cui provare a conquistare questa salvezza sul campo fermo restando tutti i discorsi che dicevamo prima ciao amici fatti di spezia e al prossimo video durissima durissimo questa salvezza ma lo sapevamo ciao 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 ciao